In questo momento, così sfidate per tutti, stiamo già pensando a come ripartire. Per questo, noi di Vinzani Store siamo a vostro fianco con i nostri commerciali. Per notare una consulenza dedicata e semplicissima, visita il nostro sito internet www.gruppovinzani.it Scegli la tua lettura, compila il modulo di richiesta con tutti i tuoi dati e sarai contattato direttamente da una delle nostre ragazze o da una dei nostri collaboratori. Ti ricordo che per tutto il mese di aprile basteranno 100€ per prenotare la tua vettura e per ben 45 giorni se prenota la tua auto online. Inoltre, il passaggio dell'opetà lo battiamo noi. Un'ultima ma importantissima cosa è ricordare che per tutti gli ordini effettuati nel mese di aprile-maggio il gruppo Vinzani ha deciso di donare il 5x1000 all'ospedale di Papatavani, invece i tre e i miei di Berlino. In attesa della ripartenza, berghermola mia e ci vediamo tutti online.